La Lega Nord continuerà in ogni sede, in ogni luogo, la forma di protesta perché noi siamo convinti che questo è un decreto truffa inserito nella legge di stabilità. Renzi aiuta quattro banche amici del PD e mette sull'astrico migliaia di famiglie a cui dà un'elemosina di Stato di 100 milioni. Un fondo che non servirà assolutamente a ridare ai risparmiatori truffati quello che hanno perso.